18.35, ben ritrovati negli studi del Tg2000, approvare il suicidio assistito aprirebbe una voragine legislativa nel nostro paese. È netta la posizione della conferenza episcopale italiana nelle parole del Presidente Cardinal Bassetti. Non esiste un diritto alla morte, ha ribadito il porporato nell'evento pubblico che si è tenuto oggi pomeriggio. C'era Nicola Ferrante. La vita come un dovere anche per chi è gravemente malato. Così il Cardinal Bassetti all'appuntamento sul suicidio assistito a pochi giorni dalla data del 24 settembre, termine ultimo che la consulta ha dato al Parlamento per legiferare in materia. L'approvezione del suicidio assistito nel nostro paese aprirebbe a loro un'autentica voragine dal punto di vista legislativo. Solo formale la differenza fra eutanasia e suicidio assistito, spiega il Presidente della CEI, entrambi hanno lo stesso effetto. Da parte nostra affermiamo con forza che anche nel caso di una grave malattia va respinto il principio per il quale la richiesta di morire debba essere accolta per il solo motivo che proviene dalla libertà del soggetto. Poi il Cardinale denuncia anche la crisi giuridica che emerge da questa vicenda e indica una via. La via più percorribile sarebbe quella di un'attuazione e differenzazione delle sanzioni dell'aiuto al suicidio, nel caso particolare in cui ad agire siano i familiari o coloro che si prendono cura del paziente. Parlando infine ai giornalisti spiega ulteriormente il significato delle sue parole. Ma la vita non ce la siamo data e come non ce la siamo data non ce la possiamo togliere. Tutto deve essere pro-life, tutto deve essere per la vita. Bisogna cambiare mentalità, bisogna convertirsi, non scegliere come ho detto le strade più semplici. Dinanzi a questa situazione politica noi speriamo che il Parlamento possa eventualmente decidere rapidamente prima entro il 23 settembre affinché si blocchi la decisione della consulta. Nel caso questo non succedesse l'appello alla consulta di tenere presenti questi valori perché assolutamente non si può rendere così facile con il suicidio assistito e con una legislazione che favorisce e che dà l'ok all'eutanasia la possibilità di interrompere la vita. Il medico viene completamente escluso da qualsiasi rapporto, viene chiamato a sanare le conseguenze ma questo certamente è inaccettabile per la classe medica perché il ruolo specifico del medico deve essere salvaguardato. Il medico non è un prestatore di opera, è un professionista che deve prendersi cura. Non conta se la vita è nata o non è ancora nata, se è sano o se è malata, se è giovane o è vecchia, se è afflitta o non afflitta dalla sofferenza, dalla malattia, dalla disabilità. Ogni vita umana è sempre e comunque uno splendore per cui ci saremo e ci saremo sempre per affermare questo e accanto a questo ci saremo per chiedere con forza e con insistenza ai nostri rappresentanti in Parlamento, alle istituzioni, che venga rinforzata assolutamente su tutto il territorio nazionale la rete delle cure palliative. L'evento pubblico di oggi promosso dai Vescovi italiani è nato dall'imminente scadenza, quella del 24 settembre, ultimo giorno del periodo che la Corte Costituzionale ha concesso al Parlamento italiano per legiferare sul fine vita. A che punto siamo? Lo capiamo con Luciano Piscaglia. È iniziato tutto il 14 febbraio 2018 quando la Corte d'Assise di Milano, in merito al processo a carico di Marco Cappato per avere assistito e favorito DJ Fabo nella sua intenzione di togliersi la vita, ha chiamato in causa la Corte Costituzionale ipotizzando la sospetta illegittimità dell'articolo 580 del Codice Penale che punisce chi aiuta o istiga una persona al suicidio. La consulta ha deciso di rinviare la decisione al prossimo 24 settembre, invitando nel frattempo il Parlamento a legiferare e riservandosi di intervenire con una propria sentenza solo se entro tale data non si sarà giunti ad un testo unico di legge condiviso. Un compito che fino ad oggi però il Parlamento non ha assolto, non aprendo un serio dibattito e limitandosi a presentare alcune proposte di legge che prevedono dalla legalizzazione del suicidio assistito appena differenziate e attenuate sia ad assistere chi si toglie la vita e un familiare. Ora, alla vigilia della scadenza indicata dalla Corte Costituzionale, il Parlamento ha pochi giorni per discutere una nuova legge. In alternativa potrebbe avviare l'iter e chiedere alla consulta di concedere ancora tempo prima di emettere la sua sentenza, ma è molto probabile che nell'attuale fase di inizio legislatura e viste le difficoltà incontrate finora a legiferare in merito. Il Parlamento decida di aspettare la sentenza della Corte Costituzionale. Giuseppe Conte è già a lavoro dopo aver incassato la fiducia di ieri. Oggi il Premier è stato a Bruxelles per iniziare la trattativa con l'Unione Europea su più tavoli, dal patto di stabilità alla ridefinizione delle regole sui migranti. Ce ne parla Augusto Cantelli. Rivedere il patto di Dublino sulla ridistribuzione di migranti e modificare il patto di stabilità incassata la fiducia del Parlamento e il Premier Conte a Bruxelles, forte anche della nomina di gentiloni a commissario economico incontro ai vertici dell'Unione. Piena identità di vedute con la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, alla quale Conte fa richieste specifiche per alimentare la crescita e uscire dalla stagnazione. Anche sull'immigrazione Conte chiede il massimo impegno di Bruxelles, soprattutto sui ricollocamenti. In prospettiva, poi quando lo perfezioneremo, avremo probabilmente dei paesi che saranno riluttanti. C'è consapevolezza però che chi non parteciperà, come dire, ne risentirà molto sul piano finanziario, in modo consistente. Se siamo in Europa, evidentemente tutti devono partecipare a meccanismi di redistribuzione e quindi un meccanismo di solidarietà non può essere disatteso se non a grave prezzo per quel che mi riguarda. Sul fronte interno dal Premier la richiesta alle forze di maggioranza di provvedere al completamento della squadra di governo già da domani con i nuovi viceministri e sottosegretari. Passaggio tutt'altro che semplice che alimenta polemiche all'interno degli stessi partiti di maggioranza, sebbene Palazzo Chigi smentisca voci di contrasti e polemiche. Il Conte 2 inizia il suo cammino dunque, ma a Palazzo Madama i numeri per la maggioranza sono risicati, appena otto sul quorum richiesto e le opposizioni già vi intravedono il punto debole. E i sindacati aprono un fronte con il Governo, chiedono un incontro sia a CGL, CISL che will, per mettere sul tavolo le questioni aperte e il modo di affrontarle. Allora Giuseppe Caporaso ha raggiunto Anna Maria Furlan, segretario generale della CISL. Sentiamo. Il cuneo fiscale, concretamente che cosa vuol dire per voi intervenire sul cuneo fiscale? Significa innanzitutto rispettare quello che abbiamo chiesto come sindacati unitariamente, ma anche come parti sociali tutte, datoriali e sindacali, cioè che il cuneo fiscale sia tutto a favore delle buste paga dei lavoratori e delle lavoratrici. Potremmo sintetizzarlo in questo modo, è necessario almeno una mensilità in più. I pensionati sono da tempo sul pieno di guerra, che cosa è possibile fare concretamente anche per i pensionati? Far pesare meno il fisco sulle pensioni degli uomini e delle donne che hanno dedicato tanti anni di lavoro nella loro vita al nostro Paese. Fare finalmente una legge sulla non autosufficienza, che per la verità non riguarda solo gli anziani, ma riguarda molti anziani e politiche vere a favore della famiglia. Questo sia per l'infanzia ma anche per gli anziani. Fioccano invece le proposte sul salario minimo. La posizione vostra del sindacato qual è? Per noi i salari minimi sono i minimi tabellari dei nostri contratti nazionali, i grandi contratti nazionali che noi stipuliamo con tutte le parti datoriali. In più non è soltanto pago orario il salario, è quello ma sono rate di tredicesima, di quattordicesima, è diritto la formazione e welfare contrattuale. Tante voci che non vogliamo assolutamente siano disperse. Cambiamo argomento perché ricorre oggi il diciottesimo anniversario dell'attacco terroristico alle Torri Gemelle e al Pentagono. L'11 settembre del 2001 è una data che ricorda con dolore tutto il mondo. Allora vediamo le celebrazioni negli Stati Uniti con Antonio Soviero e poi la testimonianza di una sopravvissuta raccolta da Barbara Masulli. La campana della speranza della Cappella di San Paolo a New York suona alle 8.46, la stessa ora dell'impatto del primo aereo contro la Torre Nord del World Trade Center. Era l'11 settembre del 2001 e l'America era sotto attacco. 17 minuti dopo il secondo velivolo entra nella Torre Sud e alle 9.37 un terzo aereo colpisce il Pentagono. Alla Casa Bianca Trump e la moglie Melania partecipano al minuto di silenzio. Al Pentagono prima che si aggiorno una grande bandiera a stelle e strisce viene dispiegata sul lato ovest dell'edificio. Il giorno dopo l'attacco con la sede del quartiere generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America ancora fumante, una bandiera analoga fu drappeggiata dai vigili del fuoco dallo stesso punto. Per la diciottesima volta l'America si ferma per ricordare i 3.000 morti della più grande tragedia della sua storia recente. A New York, durante la consueta lettura dei nomi delle vittime, sei monoliti sono stati dedicati a tutti coloro che sono morti a causa dell'esposizione alle sostanze tossiche delle macerie di Ground Zero. Perché a 18 anni dall'attacco di 19 terroristi di Al-Qaeda al cuore della prima potenza mondiale, le conseguenze pesano ancora sulla salute di chi ha sfidato la morte e molti hanno perso per salvare quante più vite. Io ero arrivata a New York l'8 settembre e il giorno precedente, esattamente il 10, mi ero iscritta a un corso universitario in un'università proprio lì vicina alle Torri Gemelle. L'11 settembre era il tuo primo giorno di corso. Siccome comunque era presto, le lezioni iniziavano, sarebbero iniziate alle 9, io ero già giù da prima e allora ho detto dai stasera vado a cena lassù in alto così vedo New York dall'alto. E quindi sono entrata nella torre, quella che è stata poi la prima torre colpita. Ho capito che qualcosa non andava perché a un certo punto riuscivo a vedere l'esterno e vedevo tutta gente che correva, che guardava in alto. Non mi sono più recata praticamente agli ascensori per salire e sono uscita per vedere che cosa fosse successo. Quando ho visto il lato dove era arrivato l'aereo ho capito che qualcosa era successo. Non ti è venuto l'impulso di scappare? No. Perché? Perché nessuno lo faceva, non si è capito subito un pericolo reale per chi era lì sotto assolutamente. Non pensavi potesse crollare la torre? No. Poi il secondo aereo l'abbiamo sentito molto bene. Lì è stata una presa di coscienza da parte di tutti che c'era qualcosa di grosso. Cosa hai pensato? Ho pensato alla guerra. Quando hai capito che dovevi scappare? Quando è iniziata a crollare la seconda torre colpita, è stata la prima a crollare. Allora lì ce la siamo data a gambe tutti quanti. La cosa più brutta è vedere le persone che cadono. Per la disperazione si sono buttati. Tu le hai viste le persone cadere? Sì, sì, sì. La mia vita è cambiata, vivo il quotidiano. Cos'è per te l'11 settembre? È il giorno in cui ho vinto il Super Enalotto. È il giorno... Il mio giorno fortunato. E dopo l'annuncio di Benjamin Netanyahu di voler annettere la Cisgiordania, nel caso in cui venisse eletto di nuovo premier, oggi lo scontro tra Israele e Palestina è diventato più incandescente. Ieri sera due razzi sono stati lanciati da Gaza verso i territori israeliani, a ridosso della striscia. Uno è caduto proprio vicino al luogo dove Netanyahu stava tenendo un comizio. Vediamo le immagini del premier che è stato spinto in un rifugio e che sono diventate subito virali. La risposta israeliana non si è fatta attendere. Sono stati colpiti in un raid 15 obiettivi di Hamas. E dalla Germania, dove è stato invitato, Joshua Wong, il simbolo, quello che ormai è diventato il simbolo delle proteste di Hong Kong, chiede all'Europa di condannare le violenze contro i manifestanti e denuncia le barbarie messe in atto dalla polizia del suo paese. Marco Burini. In questi mesi l'abbiamo raccontata come una rivolta dal basso, pulviscolare, senza leader veri e propri. Ma anche quella di Hong Kong ha i suoi volti noti, tra cui Joshua Wong, che ha solo 23 anni ma è un veterano di mille battaglie, già in prima fila nella cosiddetta rivolta degli ombrelli di cinque anni fa, arrestato decine di volte, l'ultima pochi giorni fa. Appena rilasciato è partito, su invito del settimanale Bild, per la Germania, a Berlino, dove lunedì ha incontrato il ministro degli esteri Maas. Immediata la protesta della Cina. Nessun paese straniero deve interferire con i nostri affari interni, hanno similato da Pechino. Già, ma per Wong e moltissimi cittadini di Hong Kong come lui, soprattutto i più giovani, i più istruiti, lo straniero è proprio la Cina. Contestano la lenta, inesorabile presa di Pechino sulla metropoli dopo la fine del protettorato britannico nel 1997, proprio quando nascevano loro. Hong Kong è la nuova Berlino della nuova guerra fredda, ha dichiarato oggi Wong, che è un attivista formidabile, bravo a parlare come a tenere i contatti con il resto del mondo, condizione fondamentale perché la rivolta abbia qualche chance. Pochi giorni fa aveva chiesto alla Merkel, che era in visita a Pechino, di parlare con Xi Jinping della questione e difendere i manifestanti. La cancelliera oggi non ha ricevuto Wong, non è un capo di Stato, almeno per ora, ma stamattina al Bundestag ha detto chiaro e tondo, per noi i diritti umani sono imprescindivi. Per tutta risposta, la Cina ha convocato l'ambasciatore tedesco a Pechino per protestare. I semi gettati durante il 31esimo viaggio apostolico possano portare frutti abbondanti per quei popoli. L'auspicio espresso dal Papa oggi durante l'udienza generale dedicata al viaggio in Africa. Cristiana Caricato. Il pellegrino di pace di nuovo a Roma, in piazza San Pietro, reduce da un viaggio di poco meno di una settimana nell'Africa australe. All'udienza generale racconta i giorni passati a incoraggiare la riconciliazione e la speranza nel Mozambico, devastato dal lungo confronto armato e da catastrofi naturali. Dei tanti appuntamenti con i vertici istituzionali ed ecclesiali, con giovani e folle di fedeli, ha voluto ricordare la sosta nell'ospedale di Zimpeto, nella periferia di Maputo, dove la comunità di Sant'Egidio porta avanti i programmi per malati di AIDS. In questo pisale ho visto che la cosa più importante sono gli ammalati e tutti lavorano per gli ammalati. Poi il ricordo della bellezza naturale del Madagascar, paese drammaticamente segnato dalla povertà. Nel suo racconto la festa con i bambini ad Akamasua, con l'amico padre Pedro Peca, la preghiera per i lavoratori nella cava di pietre, gli affollatissimi appuntamenti, veglia e celebrazione eucaristica ad Antananarivo. Infine il salto alle Mauritius, repubblica di cui Francesco ammira la capacità di dialogo interreligioso e l'unità del popolo. Una cosa che a noi sembrerebbe strana, ma per loro vivono così l'amicizia, che è naturale. Lo suppore per il dono, un mazzo di fiori dell'imam di Paul Louis, insieme al lavoro portato avanti dai vescovi per armonizzare le differenze e moltiplicare l'accoglienza. Infine il ricordo della tappa, prima del ritorno in Vaticano, alla Basilica di Santa Maria Maggiore, rivelando che proprio la Vergine ha costo dire parole e gesti di ogni suo viaggio. Con la Madonna ci vado sicuro. Abbiamo scelto l'11 settembre come data del primo incontro, come segno di volontà di costruire vita dove altri hanno seminato morte. Lo scrive la Sala Stampa Vaticana nella nota per la prima riunione questa mattina a Casa Santa Marta del Comitato Superiore per il raggiungimento degli obiettivi del documento sulla fratellanza umana. Quello sottoscritto dal Papa e dal grande imam di Al-Azhar nel febbraio scorso, nel corso del viaggio del pontefici negli Emirati Arabi. Dall'incontro arriva la proposta dell'ONU di una giornata della fratellanza umana da individuare fra il 3 e il 5 febbraio di ogni anno. La cronaca adesso. Una banda di 10 persone è stata arrestata a Napoli per mettere a segno i colpi. Si identificavano come carabinieri con tanto di uniforme e tesserino. In servizio di David Murgia. Sembravano dei normali carabinieri in servizio, auto con lampeggiante, tesserini di riconoscimento e divisa perfetta. In realtà erano dei malviventi che utilizzavano anche questo sistema per rapinare case e negozi. I carabinieri, quelli veri di Napoli e Marianella, hanno così arrestato 10 persone, già note alle forze dell'ordine, per rapina, detenzione, porto abusivo d'arma da fuoco, sequestro di persone, furti in abitazione. L'operazione è scattata a conclusione di un'indagine iniziata un anno dopo una violenta rapina in l'abitazione ai danni di un imprenditore residente a Napoli. Uno dei banditi, travestito da carabiniere, ha simulato di dover effettuare un controllo nell'abitazione e appena è riuscito ad entrare nel cortile della villa è stato raggiunto di corsa dagli altri quattro complici. Tutti, con il volto coperto, hanno puntato più volte una pistola alla tempia della vittima e lo hanno costretto a consegnare denaro, gioielli e orologi di valore. Stessa modalità è stata utilizzata anche per rapinare questa sala scommesse. Entrano, puntano la pistola, prendono i soldi e scappano via. Le indagini, riferiscono i carabinieri, hanno permesso di evitare che i componenti della banda riuscissero a portare a termine ulteriori furti e rapini in abitazione. Con le immagini adesso andiamo all'ecco dove un uomo ha seminato il panico. Prima ha spintonato con violenza una studentessa di 18 anni che scendeva dalle scale. Eccola qui. Poi ha colpito con un pugno in pieno volto una donna di 56 anni. Battendo la testa contro la parete quest'ultima ha riportato un trauma cranico. Protagonista dell'aggressione un 24enne originario del Togo privo del permesso di soggiorno e già noto alle forze dell'ordine non ha saputo spiegare le ragioni del gesto sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica nel frattempo il giudice gli ha concesso gli arresti domiciliari. È stato condannato all'ergastolo invece Vincenzo Paduano l'ex guardia giurata che uccise e poi diede alle fiamme l'ex fidanzata 22enne Sara Di Pietrantonio il 29 maggio del 2016 in via della Magliana a Roma. Paduano, fermato subito dalla polizia aveva confessato di aver ucciso l'ex fidanzata per gelosia la Cassazione ha ribadito la condanna all'ergastolo dopo che in appello la pena era stata ridotta a 30 anni. Cambiamo argomento l'anno scolastico è iniziato in molte regioni in molte altre inizierà tra pochi giorni ma i sindacati lanciano un'allarme molte cattedre rischiano di rimanere vuote la soluzione auspicata e che fa discutere ce la spiega Alessandra Camarca All'inizio di questo nuovo anno scolastico a mancare all'appello non sono gli alunni ma i professori la scuola chiama raccolta i neolaureati si tratta di un piccolo esercito di 20.000 nuove eleve diplomati o laureati senza esperienza che potrebbero entrare in classe a fare lezione sono 170.000 le cattedre scoperte che quest'anno potrebbero arrivare a 200.000 e per il complicato meccanismo di reclutamento attualmente in vigore non saranno tutte assegnate ai supplenti nelle graduatorie i neolaureati invece potrebbero ritrovarsi prestissimo in cattedra e possono farlo grazie alla procedura della messa a disposizione nella scuola italiana è infatti possibile candidarsi per insegnare in qualunque istituto presentando i propri titoli con la speranza di essere convocati quest'anno più che mai visto che il sistema di convocazione dei supplenti sta mostrando tutte le sue falle qual è la procedura per convocare un docente tramite la messa a disposizione? quando un preside non ha più supplenti da chiamare per coprire una cattedra vacante prima si cercano i docenti disponibili dalle graduatorie ad esaurimento e da quelle di merito degli ultimi concorsi e poi quando non ci sono più nominativi disponibili si passa alle graduatorie d'istituto nel caso dovessero essere vuote anche quelle si convoca tra i nominati della messa a disposizione praticamente in estrema razio e tale emergenza riguarda anche il sostegno arriva dall'India il batterio che in Toscana ha causato la morte di 30 persone fa parte di un particolare ceppo di Klebsiella ed è un antibiotico resistente che finora nel nostro paese era stato registrato solo in sporadici casi Luigi Ferragliolo in 10 mesi 31 morti una vera e propria epidemia finora tenuta sotto silenzio è il bilancio tragico prodotto dalla diffusione del superbatterio New Delhi in Toscana da novembre 2018 al 31 agosto scorso sono 708 le persone contagiate in 75 casi il batterio ha dato vita a sepsi l'infezione del sangue e tra questi 31 sono morti il 40% ma c'è ancora incertezza se l'infezione del New Delhi abbia fatto tutto da sola ossia una concausa di certo c'è che la situazione in Toscana è gravissima con il pericolo che l'epidemia si possa diffondere al resto del paese o attraverso i turisti anche all'estero il New Delhi si trasmette per contatto il batterio è stato isolato per la prima volta nel 2008 in un paziente svedese appena rientrato da una vacanza a New Delhi in India per combatterlo la Toscana ha attivato un'unità di crisi e ha dato il via nei suoi ospedali a uno screening di massa sui malati perché è proprio negli ospedali che il contagio si espande finora sono 15 quelli coinvolti a essere colpiti sono principalmente pazienti immunodepressi o anziani il Ministero della Sanità e il Centro Europeo Epidemie stanno individuando una linea d'azione comune anche perché il New Delhi è resistente a molti antibiotici Celebrazioni oggi a Roma per i 150 anni dell'Associazione Italiana Editori presente il Capo dello Stato che ha ribadito la centralità della lettura per il progresso democratico del paese Saverio Simonelli Sfide nuove ma problemi che da anni si ripresentano uguali per i libri e la lettura nel nostro paese Celebrando i propri 150 anni di vita l'Associazione Italiana Editori ha sempre di fronte uno scenario complesso dove l'esasperazione tecnologica fa i conti con un contesto di estrema fragilità culturale Resta infatti basso il numero dei lettori nel nostro paese per un sistema tenuto in piedi da un 10% di lettori fortissimi che continuano a privilegiare i canali tradizionali di vendita ma non trascurano le opportunità dell'online E allora più che mai serve un lavoro capillare coraggioso e sistematico serve far capire che senza lettura senza spirito critico che solo dalla lettura si sviluppa non si è cittadini informati coscienti delle proprie scelte personali e pubbliche e in questo senso va l'appello del Presidente della Repubblica Una comunità si sviluppa crescendo attraverso la ricerca oltre i confini di quello che già si conosce attraverso la comprensione dei sentimenti l'osservazione del mondo esprimendo idee nuove pensieri critici chiavi interpretative nuove i libri sono stati e sono propulsori di questa crescita del nostro paese il telegiornale finisce qui con tutti gli aggiornamenti però torna alle 20 e 30 grazie per averci seguito